Moto3, Giorgio Martin investito in bici, sta bene Continua la stagione sfortunata del team Gresini e di Giorgio Martin. Il pilota spagnolo è stato investito mentre si allenava in bicicletta nella giornata di ieri, ad annunciarlo è stato lo stesso pilota attraverso un post sul proprio profilo Twitter Fortunatamente, però, il pilota del team Gresini non ha riportato fratture o lesioni gravi e la sua partecipazione al prossimo appuntamento del Moto Mondiale, ad Aragon, non è in dubbio Continua quindi la stagione sfortunata di Martin che dopo l'infortunio alla caviglia subito al Sassenring, che lo ha estromesso dalla lotta al Mondiale, ha rischiato di compromettere il finale di stagione, non per colpa sua ovviamente Poteva essere un disastro, ma sto bene, ha dichiarato Martin, che poi continua, ho avuto molta fortuna nonostante lo shock. Anche il team Gresini ha potuto tirare un sospiro di sollievo La caduta in Germania ha tolto la possibilità alla squadra italiana di lottare per il Mondiale contro Mire e Fenati, ma l'avere evitato conseguenze gravi in questo incidente permetterà a tutti di togliersi grandi soddisfazioni in questo rush finale Il team di Fausto Gresini, infatti, si è mostrato molto competitivo nelle ultime gare, centrando anche la pole position a Misano, e con un ritrovato Bastianini, oltre a Martin che è ormai una certezza, potrà trovare anche qualche successo parziale Grazie a tutti